Allora un altro appuntamento con un esponente sindacale di primo piano provinciale per un focus e una visione particolare sul mondo della sanità. Venerdì sera alle ore 21, venerdì 18, l'associazione In viaggio lungo il Metauro farà questa nuova iniziativa con la segretaria provinciale della CGL Simona Ricci e parleremo della sanità nella nostra vallata che come si sa è una vallata piuttosto turbolenta in questo periodo. Quindi cercheremo di mettere a fuoco i problemi dalla chiusura degli ospedali, la regolizzazione, curi intermedie, la 145 e la sanità privata. Ecco, la signora Ricci ci aiuterà a discutere su questi punti e spero che venga fuori una serata positiva da questo punto di vista. Il luogo e l'ora dell'incontro? Presso la sala conferenze dell'hotel Flaminio a Tavernelle di Serongarina, accoglie il Metauro.